Ore 22, cale e silenzio sulle vie del centro di Prato. Anche gli ultimi ritardatari rientrano in casa e per strada solo le pattuglie a piedi per i controlli e le macchine delle forze dell'ordine che vigilano sulle arterie principali della città. Nella prima sera di coprifuoco, imposto dall'ultimo DPCM, le regole sono state rispettate. Strade, piazze e vie completamente deserte, nonostante la serata tiepida, che in altre circostanze avrebbe invogliato a fare due passi e a godersi una cena, magari ancora all'aperto. Ma il Covid ha modificato le abitudini di tutti e così piazza mercatale è vuota. Quasi ci si potrebbe giocare a pallone, tanto poche sono le vetture parcheggiate. Silenzio tutto intorno, i locali sono chiusi, le saracinesche abbassate, a girare solo una macchina della polizia. Anche i vicoli del centro e via Sette Soldi, che in un qualsiasi venerdì sarebbero state affollate e chiassose, sono irriconoscibili. Per strada solo le pattuglie miste della Municipale, l'Associazione dei Carabinieri in Concedo e l'Associazione Oltre, che però hanno poco da fare. Anche via Santa Trinite, piazza delle Carceri, notoriamente frequentate da famiglie e bambini, è silenziosa. Come del resto via le piave, ritrovo di tanti ragazzini. Camminando rimbombano i passi, in lontananza le sirene, ma anche i frammenti di vita familiare da dietro le finestre. Radio e televisione accese, pezzi di conversazione. Le finestre sono aperte per far entrare un po' d'aria, visto che non è possibile farlo passeggiando.